Valentini, allora domenica con qualche brutta sorpresa? Sì, effettivamente sì, ho avuto una bella sorpresa, tra virgolette, se vogliamo dire sorpresa. Praticamente noi da un mese abbiamo aperto questa attività qua anche a Pesaro, abbiamo provato qua a aprire questo nuovo ufficio qua a Pesaro e neanche tempo di lavorare, nel tempo del giro di un mese, sabato notte, ci hanno fatto una sorpresa qua nel nuovo ufficio, nella vetrina, danneggiandola. E purtroppo non è un bel inizio per noi cominciare con questi atti, così, non so come definirli, intimidatori, non so. Di certo magari diamo fastidio a qualcuno, non lo so, adesso comunque ci penserà la polizia, fanno le loro indagini, poi indagini concluse, insomma, saprò dirvi cos'è successo. Però sicuramente a fare questi atti non saranno stati qua negozi vicino, edicole, bar, pasticcerie o quant'altro. Anche un po' di pubblicità.